qui benvenuti 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 sono le ore 18 e come ogni lunedì iniziamo il webinar del lunedì di investire.biz do il benvenuto a tutti quanti siamo tantissimi questa sera quindi come al solito mi raccomando se avete delle domande potete farmene attraverso la chat anche questa sera sono da solo perché Riccardo è in vacanza e di conseguenza insomma vi dovrete accontentare solamente del sottoscritto. Andiamo subito a vedere i mercati finanziari perché abbiamo di fatto delle situazioni davvero molto molto interessanti la prima situazione davvero molto interessante che è vero è vero Ivan Riccardo ultimamente sempre in vacanza ma tra l'altro ultimamente ha questa abitudine di prendersi il venerdì e il lunedì che proprio sono proprio quei due giorni che ti permettono poi di fare il il weekend lungo ma se andate a vedere su su facebook se la sta proprio godendo quindi feste in barca insomma davvero Riccardo si sta esatto Ivan dice proprio furbetto si sta godendo questa questa estate però d'altronde come vi asimarlo è in un posto di mare bellissimo giustamente le vacanze bisogna farle quindi ognuno se le organizza un po come vuole ma allora noi rimaniamo concentrati perché a differenza di Riccardo siamo qua davanti ai grafici e la prima situazione davvero molto molto interessante che vi voglio far vedere riguarda Eurodollaro perché Eurodollaro proprio si sta comportando in una maniera estremamente tecnica vediamo i prezzi che si muovono all'interno delle trendline che abbiamo tracciato oramai mesi e mesi fa e continuano però a essere davvero estremamente valide e in questo caso siamo proprio in un punto estremamente valido per un acquisto quindi per un'operazione a rialzo proprio perché i prezzi si stanno muovendo in maniera estremamente tecnica vediamo appunto i prezzi che hanno iniziato a segnare massimi e minimi crescenti quindi individuano in maniera perfetta un trend proprio un trend rialzista davvero in questo caso Eurodollaro si è comportato in maniera estremamente tecnica abbiamo visto veramente tutto quello che c'è da vedere nell'inizio di un nuovo trend abbiamo la rottura della trendline con il conseguente rimbalzo proprio sul punto di rottura la ripartenza del trend in questo momento abbiamo proprio una fase di debolezza che ha riportato i prezzi proprio nell'area che avevamo individuato come area di ingresso al rialzo per un'eventuale continuazione al rialzo ok quindi proprio se non vi siete ancora posizionati long su Eurodollaro questo a mio avviso è proprio uno dei momenti migliori in assoluto intanto do il benvenuto a Domenico che si è appena collegato benvenuto Domenico insomma stavo dicendo appunto se ancora non vi siete posizionati long questo momento è davvero a mio avviso uno dei momenti ideali perché siamo proprio su una candela giornaliera estremamente negativa noi sappiamo che spesso e volentieri i punti migliori per entrare per esempio al rialzo in questo caso sono proprio in seguito a una candela ad alta volatilità ribassista come in questo caso una candela che sta proprio scontrandosi con un livello tecnico estremamente importante livello tecnico appunto in area 1 e 13 in questo in questo 1,13,12 chiaramente in area 1,13 livello estremamente importante perché basta semplicemente volgere lo sguardo verso il passato per vedere appunto che nel passato proprio questo livello è corrisposto a dei punti di svolta davvero molto importanti del cambio euro dollaro per esempio qui siamo un attimo solo che lo vediamo precisamente qui siamo per esempio a fine 2018 vediamo appunto questo livello che ha fatto rimbalzare davvero in maniera egregia i prezzi e poi se torniamo anche indietro nel tempo vediamo appunto che abbiamo un livello sempre molto importante questo appunto dove i prezzi addirittura avevano rimbalzato utilizzando questo livello proprio come resistenza quindi davvero un punto estremamente importante che corrisponde proprio a questo momento in cui i prezzi stanno semplicemente segnando qualche giorno di ribasso all'interno però di quello che è un trend oramai rialzista perché abbiamo avuto la rottura della trend line e appunto questo trend al rialzo segnato da massimi e minimi crescenti allora domenico dice non potrebbe essere segno di riba di debolezza per inizio di un ribasso guarda domenico potrebbe essere tutto chiaramente perché alla fine l'ultima risposta e la ragione ce l'ha sempre il mercato però in questo caso devo dire che gli elementi a favore di un di una svolta rialzista per l'euro dollaro ci sono tutti perché come vedi abbiamo la rottura di questa trend line appunto che unisce i massimi del marzo 2018 fine marzo 2018 con metà aprile 2018 una trend line che poi è proseguito fino appunto a questo giorno a inizio a inizio giugno dove appunto poi i prezzi hanno intrapreso la strada del rialzo abbiamo massimi e minimi crescenti e in più attenzione perché guardate qua sentiment trading 72 per cento dei trader sono posizionati short questo significa che ben il 72 per cento dei trader pensa o spera che i prezzi dell'euro dollaro scendano quindi che il dollaro americano prenda valore nei confronti dell'euro e insomma molto interessante proprio perché su euro dollaro è una percentuale davvero alta una percentuale estremamente alta se contiamo che euro dollaro è la valuta in assoluto più importante del panorama di tutto quanto il forex quindi decisamente appunto molto molto interessante ecco infatti federico mi chiedeva il sentiment che cosa dice ecco il sentiment dice proprio questo 72 per cento di posizioni ribassiste in una conformazione grafica di questo tipo devo dire che siamo davvero messi bene con appunto abbiamo tanti elementi che ci fanno pensare che effettivamente quello in corso potrebbe essere davvero un'inversione di tendenza inversione di tendenza allora maurizio mi chiede ciao ma se la fed aumenta i tassi il dollaro non si rivaluta guarda maurizio io non sono un fan dei dati macroeconomici quindi io tendenzialmente sono un analista tecnico sono un trader che basa le sue analisi appunto solamente sul grafico e solamente da quello che la domanda e l'offerta mi trasmettono detto questo però qualsiasi notizia che abbiamo sulla federal reserve come su qualsiasi altra cosa che succede nel mondo è già all'interno di questo grafico quindi l'aspettativa che gli investitori hanno su quello che potrebbe fare o non fare la fed è già all'interno di questo grafico di conseguenza io sinceramente non cerco di fare delle 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 ipotesi su quello che potrebbero fare dei banchieri centrali perché non mi sento in grado di fare queste considerazioni andrea mi dice ciao luca quale sarebbe un buon punto di stop in caso di inversione del trend allora guarda andrea in questo caso il miglior punto di stop a mio avviso non si calcola mai guardando il grafico quindi non non è giusto a mio avviso trovare un punto corretto dove chiudere un eventuale operazione perché non esiste a mio avviso un punto corretto dove chiudere un eventuale operazione c'è un punto dove chiudere un eventuale operazione corretto ma come target quindi nel caso di un'operazione al rialzo quindi in questo caso il target che noi posizioniamo in area 1 e 16 proprio perché appunto sappiamo che il target naturale di questo movimento è il punto appunto il questa trend line che oramai chiama i prezzi sappiamo che la trend line precedente quindi quella appunto che passa dal punto in cui nasce la trend line che invece si è rotta rappresenta un potentissimo target per i prezzi bene quindi in questo caso abbiamo appunto questo livello che è il livello di 1 e 16 che poi chiaramente piano piano si abbassa con il passare dei giorni perché la trend line è una resistenza in questo caso dinamica che si sposta con il passare del tempo verso il basso però io so che questa operazione in questo caso da 1 e 13 a 1 e 16 ha un potenziale di 200 pips quindi so che il mio stop loss corretto per questa operazione è di circa 100 pips quindi in questo caso la mia operazione avrà uno stop loss appunto di un centinaio di pips e quindi diciamo nell'area di 1 e 12 quindi più o meno qua vedi dove ho tracciato questa linea blu se i prezzi dovessero tornare su questo livello ecco che chiaramente valuterei una chiusura dell'operazione proprio perché ci sarebbe qualcosa che non va potrebbe esserci qualcosa che non va una debolezza dei prezzi fino a questo punto potrebbe assolutamente compromettere tutto quello che è la mia visione rialzista su questa su questa valuta perché ricordiamocelo noi possiamo mettere tutti gli elementi di un'analisi all'interno della nostra pentola però non tutte le ciambelle vengono con il buco quindi bisogna sempre 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 proteggersi sempre con degli stop loss ma a mio avviso mettere uno stop loss un massimo su un minimo precedente non ha assolutamente senso ha senso calcolarlo in maniera numerica se io so dove ho posizionato il target se io so dove il target è posizionato in maniera corretta allora so anche semplicemente dove appunto andare a posizionare il mio stop loss ok quindi euro dollaro assolutamente al rialzo una strategia molto semplice siamo già nelle condizioni ideali sostanzialmente non c'è bisogno nemmeno di aspettare posizione al rialzo intanto dal benvenuto a marino che si è appena collegato anche se con un po di ritardo non preoccuparti marino e appunto abbiamo davanti a noi un bel potenziale al rialzo siamo supportati anche da questa incredibile percentuale di trader posizionati short su euro dollaro che come sappiamo generalmente hanno torto e di conseguenza diciamo è un elemento chiave in più da aggiungere alla nostra analisi bene 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 se non ci sono domande fatemi sapere se scrivetemi pure se ci sono domande su euro dollaro se volete approfondire anche se siamo su un grafico giornadiero la situazione è davvero molto easy da capire perché insomma vediamo appunto massimi e minimi crescenti abbiamo la il ritracciamento so che fa paura ragazzi so benissimo che fa paura entrare long nel momento in cui una candelona di questo tipo viene creata però è anche l'unico modo per comprare basso ovvero quando è esatto infatti eliseo dice ma con una candela con con una candela così certo ediseo è proprio quando tutti gli altri scappano che si fanno gli affari perché noi vogliamo comprare bassi noi vogliamo comprare il più basso possibile dato che vogliamo puntare ad un rialzo e quindi se siamo convinti della nostra analisi se sappiamo che tutti quanti sono posizionati short se sappiamo che il nostro target è in posizione 1 e 16 comprare da 1 e 13 mi sembra un'ottima cosa da fare poi chiaramente si può sbagliare però entrare al rialzo quando i prezzi sono scesi è in assoluto la cosa più intelligente da fare perché se noi dovessimo aspettare per esempio un ingresso al di sopra di questi massimi quindi al di sopra di 1 e 14 ci saremmo di fatti di fatto mangiati una figura perché entreremo a 14 a 1 e 16 abbiamo sempre il target perché il target non si sposta da lì e avremo un target di due figure quindi 200 pips invece che 300 a primo fatto un errore da 1 e 13 dobbiamo avere uno stop loss di 150 pips e quindi lo stop loss è 1 11 e 50 quindi mi sono sbagliato prima ho detto il livello di 1 e 12 perché mi ero confuso quindi stop loss alla metà del target stop loss sul livello di 1 11 50 target 1 e 16 se come vi dicevo invece di entrare adesso entrassimo alla rottura al rialzo di questo livello chiaramente avremmo una conferma maggiore che il trend è forte al rialzo però entreremo anche con 100 pips di differenza cosa che cosa fa capitare va a diminuire quello che è il rapporto rischio rendimento perché a fronte di un guadagno di 200 pips chiaramente insomma ci stiamo perdendo l'opportunità di avere un guadagno di 300 pips invece che 200 quindi cambia assolutamente tutto ok direi che su euro dollaro abbiamo sviscerato per bene andiamo a vedere adesso una situazione altrettanto interessante qui siamo sul grafico dell'oro però devo cambiare perché è x usd lo stavamo vedendo in dollaro in euro e non in dollaro americani qua vi voglio far vedere davvero una situazione estremamente interessante e ve lo faccio vedere prima di tutto sul grafico settimanale guardate qui che livello incredibile incredibile che il gold ha superato al rialzo qui abbiamo davvero una situazione grafica estremamente chiara una situazione grafica estremamente limpida con tutto un mega triangolo rialzista che parte addirittura dalla fine del 2015 un mega triangolo rialzista che ha solamente da poco iniziato a dare i suoi frutti proprio perché c'è stata la rottura rialzo della zona di 1360 una zona estremamente importante vediamo qui appunto la rottura dei massimi precedenti massimi che risalgono al 2016 massimi che risalgono anche inizio 2018 eccoli qua davvero una rottura incredibile allora ok c'è martino marino che mi chiede il dax dopo lo vediamo assolutamente e che cosa vediamo qua beh vediamo una situazione qua veramente veramente molto molto chiara andiamo sul grafico giornaliero vediamo sostanzialmente un trend al rialzo molto molto forte e anche qui ragazzi qui c'è una situazione davvero incredibile sul sul sentiment trading perché abbiamo 73 per cento dei trader posizionati short 73 per cento di trader posizionati short sono tantissimi 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 su una materia prima che è utilizzata per appunto per fare come bene rifugio quindi di base loro viene comprato non è la prima volta che ve lo dico ma voglio mettere l'accento appunto su questa su questa cosa su questa situazione proprio perché 73 per cento di trader posizionati short su loro è un qualcosa che davvero non si vede così spesso luigi dice che è short guarda luigi tantissimi trader sono short il 73 per cento sono sono short mario mi dice dovrebbe esserci un pullback a 1368 e 1368 sarebbe bellissimo vedere un pullback fino lì purtroppo per quella che è la mia esperienza non credo che i prezzi arrivino fino lì prima di tornare a salire e infatti per chi non è già posizionato long io comincerei già da adesso già da questi prezzi a costruire una posizione a rialzo perché davvero qui siamo di fronte a un trend molto molto forte e non credo che i prezzi arrivino fino a 1368 poi magari ci arrivano meglio però io comincerei già adesso a costruire una posizione a rialzo mario mi dice comunque sono long su tuo consiglio bene mi fa piacere perché io addirittura è ben prima che questo inizio che questo rialzo iniziasse ho fatto addirittura un video dove dove spiegavo che c'era una bella opportunità proprio nei giorni successivi a rimini se volete andare a vederlo lo trovate sul sul investire punto biz basta che cliccate su uno dei miei articoli e poi andate sulla mia pagina dove trovate tutti quanti i miei articoli e se scorrete nel sito lo trovate sicuramente eccolo qua trading sul gold opportunità anzi ve lo mando nella chat per chi vedrà la registrazione vi metto il il link in descrizione del video eccolo qua questo ve l'ho mandato così se vorrete poi vedere la registrazione insomma è davvero molto molto carino e fa proprio vedere come c'eravamo mossi per beccare tutto questo rialzo però importantissimo qui sono tutti posizionati short e di conseguenza appunto cominciare a costruire una posizione a rialzo a mio avviso ci mette davvero dalla parte della ragione anche perché vi faccio vedere se andiamo a vedere il grafico della stagionalità ci accorgiamo che proprio in questi giorni eccolo qui grafico dell'oro guardate qui siamo inizio luglio e proprio in questo periodo comincia un periodo che arriva fino alla fine di novembre dove i prezzi tendenzialmente dell'oro salgono quindi ci mettiamo dalla parte del trend dalla parte della statistica con la stagionalità ma soprattutto contro tutti i trader che sono posizionati short secondo me questa è veramente una bellissima operazione da fare ok c'è vediamo giuseppe mi chiede con che strumento costruisce una posizione te lo chiedo perché io uso i future e sono un po' costosi guarda sinceramente giuseppe la lo strumento ideale per fare una posizione in trading su e sul gold in questo momento è il prodotto che trovi qui sulla piattaforma di kimura trading che stiamo vedendo in questo momento perché è estremamente conveniente sia dal punto di vista dello spread sia dal punto di vista del tasso overnight applicato quindi te lo consiglio assolutamente io per le mie operazioni utilizzo questo quindi posso assicurare che è la migliore la migliore offerta che c'è sul mercato in questo momento si giuseppe sono dei cfd vi mando kimura trading.com vi mando il link del broker dove potete sia richiedere un conto demo sia un conto reale molto interessante ragazzi la posizione sul gold perché la cavalcheremo per le prossime settimane barra mesi è cominciato già da qualche settimana un bel trend al rialzo è un trend che sia dal punto di vista stagionale sia dal punto di vista tecnico sembrano aver voglia di continuare abbiamo una figura dell'analisi tecnica estremamente potente che è il triangolo ascendente che ci restituisce un target in area 1550 siamo a 1320 insomma ragazzi qui c'è tutto davvero per fare una bellissima serie di operazioni perché non sarà solamente una qui abbiamo spazio davvero per fare tante 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 tantissime belle operazioni poi inoltre se vediamo anche che c'è un testa e spalle qua sempre su questo grafico che se proiettiamo verso l'alto insomma abbiamo dei target anche più esosi dei target molto più importanti quindi insomma sull'oro davvero dobbiamo essere preparati perché ci saranno da fare davvero tanti 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 soldi ripeto vi ho mandato il link in link in chat per raggiungere il sito di kimura trading chi sta ascoltando la registrazione trova il link in descrizione del video allora Andrea mi fai una domanda sullo swap non ti so rispondere in questo momento ti dico la verità dovrei controllare però lo puoi fare in piattaforma Andrea dice che ha aperto un conto da poco con kimura perfetto benissimo mi fa piacere anche perché noi di investire.biz ci occupiamo dell'assistenza in kimura quindi per qualsiasi cosa potete fare riferimento a noi che facciamo l'assistenza in italiano allora vediamo un pochettino Luigi ci parla dell'esempi 500 allora Federico delle beyond meter ragazzi quante domande oggi mi fa piacere benissimo vediamo a cosa riusciamo a rispondere perché avevo preparato un po di grafici per voi Andrea dice è una grande piattaforma sono d'accordo Andrea guarda questa piattaforma a mio avviso al momento è la migliore sia dal punto di vista dell'execution quindi dell'esecuzione degli ordini sia dal punto di vista tecnologico e estetico quindi credo proprio che sia un ottimo mix tra la pro real time e la mt4 quindi davvero complimenti ai programmatori di questa piattaforma che hanno fatto un ottimo un ottimo lavoro bene vi voglio far vedere un po di situazioni interessanti perché su dollaro yen ragazzi abbiamo l'88 per cento di trader posizionati long voi sapete benissimo come la penso io 88 per cento di trader posizionati long significa che dobbiamo sfruttare il trend short qui abbiamo un bel trend short ok assolutamente un trend short molto bello e a mio avviso siamo già nelle condizioni di fare una bella operazione short ovvero al contrario rispetto alla massa ovvero noi vogliamo rimanere in quel 12 per cento di trader che stanno facendo il contrario degli altri sono già diversi giorni che il prezzo sale siamo in un punto tecnico estremamente importante ma la cosa che più mi interessa è proprio questa vi faccio vedere se noi tracciamo un bellissimo canale come vediamo in questo in questo caso anzi facciamo così che così lo facciamo in maniera più precisa facciamo una bella duplica di questo oggetto eccolo qua eccolo qua ragazzi qui abbiamo un target almeno in area 106 per questa moneta e a mio avviso ci vedremo anche abbastanza nel breve quindi una operazione da 150 pips molto molto interessante già da questi prezzi a mio avviso anche qui ci stiamo mettendo short su un bel candelone verde già da questi prezzi si può fare questo trade molto molto interessante cosa ne pensate vi piace allora o bene luigi mi dice infatti io sono short perfetto benissimo benissimo tra l'altro ragazzi vi anticipo che stiamo facendo dei bei studi proprio su un'operatività basata sul sentiment e devo dire che ci sta dando delle bellissime soddisfazioni e soprattutto per tutte quelle persone che davvero non hanno tempo di fare trading a breve arriviamo con una bella strategia da condividere con voi che vi piacerà davvero tantissima tantissimo quindi continuate a seguire investire.biz perché avremo delle belle novità ripeto soprattutto per chi non ha assolutamente tempo e può guardare i mercati davvero pochi minuti la settimana bene 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 andiamo avanti quindi dollaro yen ve l'ho fatto vedere dollaro cad eccolo qua anche qui abbiamo una situazione estremamente interessante eccolo qua qui abbiamo addirittura il 91 91 per cento di trader posizionati long e qui abbiamo una situazione tecnica davvero molto molto interessante cerco di far vedere anche in questo caso qui abbiamo guardate qua una bellissima guardate mamma mia io ci rimango male ogni volta che vedo queste situazioni perché guardate qualche bella che 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 perfezione questa operazione rottura della trend line rimbalzo verso il punto di rottura e adesso i prezzi si stanno dirigendo verso la trend line precedente né più né meno verso la trend line precedente guardate che bello qui si potrebbe anche attendere ancora un un po di rialzo ma la situazione davvero talmente tanto tesa sul sentiment trading che io già comincerei a costruire la posizione 1 28 50 il target anche in questo caso stiamo parlando di ben quattro figure quindi davvero tanti tanti pips da fare su questo trend ribassista che oramai sembra essere palese ha già raggiunto un punto così importante che è molto probabile che appunto i prezzi continuino fino la parte bassa ultima situazione interessante che vi voglio far vedere euro audi non vi dico cosa voglio fare in questo caso anzi ve lo dico 84 per cento dei trader sono posizionati short qui c'è una delle situazioni grafiche che io preferisco in assoluto quando guardo un grafico dei prezzi perché abbiamo un bel triangolone che porterà i prezzi a mio avviso a una esplosione davvero a breve un'esplosione davvero a breve che lascerà con il cerino in mano tutti questi ribassisti perché l'euro come abbiamo visto del resto sul grafico dell'euro dollaro è destinato a mio avviso a salire ed è una cosa che vediamo anche sul grafico di euro audi dove abbiamo tutti quanti posizionati short mentre il grafico ci sta dando dei palesi segnali di continuazione al rialzo bene 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 ragazzi io direi che per oggi possiamo fermarci qua perché abbiamo già visto tante belle situazioni mi piace molto euro dollaro mi piace molto l'oro e mi piacciono chiaramente molto le situazioni che ho preso per voi e ho diciamo riassunto in questa mezz'oretta che abbiamo che abbiamo passato insieme il dax dai va bene vi accontento vediamo anche il dax che lo stavo analizzando prima e allora vediamo template mettiamo il bianco che mi piace di più togliamo gli spaziatori allora dov'è che non lo trovo più eccolo qua separatore di periodo mettiamo un bel grafico giornaliero il dax ragazzi il dax sale cioè guardate facendo un'analisi molto molto semplice andiamo con le nostre trend line che non sbagliano mai no beh non sbagliano mai no però sbagliano veramente poco guardate cosa abbiamo qui che situazione abbiamo una situazione estremamente chiara guardate qua rottura della trend line io veramente cioè mi sento quasi in colpa a ripetervi sempre queste cose però rottura della trend line inizio di rialzo rimbalzo sul punto di rottura siamo arrivati qua un po di tentennamento poi qui c'è stata la vera rottura piccolo ritracciamento e ora i prezzi stanno salendo non ci sono altre trend line quindi ragazzi il target è qua abbiamo di fronte a noi ancora degli importanti rialzi sul dax però farò un approfondimento su questo mercato domani su investire.biz in un bel articolo io vi ricordo che su investire.biz trovate sempre la un attimo che cancello i disegni trovate sempre tantissimi belli articoli ma soprattutto nella pagina appuntamenti trovate tutti i webinar e tutti i corsi in programma in particolare vi segnalo il corso completo con ichimoku più price action che è un corso che terrà riccardo vi metto il link in descrizione perché sarà veramente un corso speciale un corso davvero che aiuterà tanti trader a fare un bel salto di qualità luigi dice che già iscritto perfetto mi fa davvero molto molto piacere e sono convinto che in tanti altri seguirete questo corso perché davvero riccardo lo sta preparando con un estremo impegno compatibilmente con tutte le vacanze che sta facendo quindi a parte gli scherzi so che davvero ci sta lavorando tantissimo bene signori signore e io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento a domani sempre su investire.biz buona serata a tutti